Innanzitutto mi lascio esprimere il profondo rammarico per l'assenza del Ministro della Giustizia. Il Ministro che era presente, è presente il Sottosegretario, va bene, il Ministro era presente poco fa per il dibattito sulle modifiche sul processo civile. Crediamo che il tema della legittima difesa non sia un tema meno importante rispetto al processo civile. Avremmo aspettato e ci saremmo aspettati che il Ministro, anche con la sua presenza, legittimasse l'importanza di questo tema. Un tema importante, un tema fondamentale, un tema particolarmente sentito dalla cittadinanza e dai cittadini. Innanzitutto mi lasci ricordare che se oggi in quest'Aula parliamo di legittima difesa o di difesa legittima domiciliare, com'è il testo della nostra proposta di legge, è perché una forza politica ha voluto con ostinazione e con forza portare nel dibattito, prima in Commissione e poi nel dibattito dell'Aula, questo tema. Ripeto, un tema importante, un tema particolarmente sentito, un tema rispetto ai quali i cittadini che ci stanno ascoltando in questo momento aspettano e probabilmente pretendono dalla politica risposte chiare, risposte inequivocabili, risposte che vanno nella direzione di garantire un bene sacro e primario per i cittadini, qual è il bene della sicurezza. Noi circa un anno fa, anche alla luce degli episodi di quotidiana vita che si sono sviluppati nel nostro Paese, abbiamo presentato una proposta di legge, una proposta di legge chiara, una proposta di legge che mira a garantire l'effettività della legittima difesa. Lo slogan, la difesa sempre legittima è per noi una parola d'ordine importante al fine di poter garantire sicurezza ai nostri cittadini. Abbiamo presentato questa proposta di legge, questa proposta di legge è stata calendarizzata nel mese di novembre, rispetto a questa proposta di legge abbiamo acconsentito, come è giusto che fosse, ad un'attività istruttoria seria, audendo soggetti e giuristi legittimati da portare un contributo importante allo sviluppo di questo tema. La Lega ha chiesto che questa proposta di legge fosse una proposta di legge in quota opposizione, la proposta di legge della Lega è poi stata anche la luce del dibattito in Commissione e dei suggerimenti dei consigli che sono stati portati dagli esperti e dai tecnici di cui parlavo prima, l'abbiamo migliorata dal nostro punto di vista. Questa proposta è stata poi bocciata con un voto chiaro da parte della Commissione, bocciata anche con il parere di bocciatura da parte del Governo e sostituita con un emendamento a firma del collega Ermini che oggi è il testo che giunge in quest'Aula. Nel momento in cui la proposta di legge presentata dalla Lega non corrispondeva più, essendo stata bocciata alle esigenze, agli obiettivi e alle finalità rispetto ai quali abbiamo presentato questa proposta di legge, il sottoscritto si è dimesso da relatore, il quale non può essere relatore di una legge a nostro avviso assolutamente inutile rispetto alle finalità che si dovrebbe prefiggere, ovvero quello di garantire la certezza dell'applicazione della legittima difesa e quindi oggi ci troviamo come gruppo della Lega ad essere relatori di minoranza rispetto al nostro testo, ad essere relatori e a difendere convintamente la nostra proposta di legge, a difendere convintamente le finalità e le motivazioni che ci hanno portato a presentare questa proposta di legge, avversando pertanto la proposta di legge presentata dal Partito Democratico a firma del collega Ermini. Proposta di legge che sgombero subito il campo dei quivoci, non migliorerà e non produrrà effetti positivi sull'applicazione di una legge. Legge è l'articolo 52 del Codice Penale sull'Istituto della Legittima Difesa, ricordo che questo istituto è stato attraversato dal 1983 ad oggi da circa 2.500 sentenze giurisprudenziali, e quindi oggi noi abbiamo una lettura dell'articolo 52, poi modificato nel 2006 con la legge 59, soprattutto una lettura di natura giurisprudenziale, che sta determinando anche la luce dei casi di cronaca quotidiana e di cronaca giudiziaria che sistematicamente vengono riportati all'attenzione della quotidianità di ognuno di noi, casi di confusione, casi di cattiva o mala interpretazione, casi tali per cui, cito alcuni esempi a modello e cito alcuni cittadini che hanno incappato e che si sono trovati a doversi scontrare con l'Istituto della Legittima Difesa, situazioni alquanto anomali e alquanto spiacevoli. Cito il caso di Antonio Monella, imprenditore bergamasco, condannato a sei anni di carcere, pena in parte scontata e in parte graziata attraverso un provvedimento del Capo dello Stato, condannato a sei anni di carcere per aver difeso la sua famiglia, la sua abitazione dall'ingresso abusivo di alcuni criminali. Cito il caso emblematico, triste, a cui va ancora la nostra solidarietà e il nostro senso di vicinanza, di Hermes Mattielli, un cittadino, un pensionato italiano che per aver difeso la sua attività economica, la sua povera attività economica dall'ingresso abusivo di due delinquenti è stato condannato cinque anni e quattro mesi di carcere a 130.000 euro di risarcimento danni e i due criminali sono stati condannati, poi reato prescritto e di nuovo recidivo a commettere il reato solo quattro mesi per violazione di domicilio. Cito il caso del pensionato di Vaprio Dadda, siciniano, anch'esso oggi indagato per il reato di omicidio volontario per aver difeso la sua incolumità, quella dei suoi figli, quella dei suoi familiari dall'ingresso illegale e illecito di chi probabilmente non è entrato in casa sua per bere un caffè ma per commettere un grave reato. Cito il caso del tabaccaio di Vicenza e tanti altri potrebbero essere i casi di quotidiana verificazione che dimostrano come la legge sulla legittima difesa a dieci anni di distanza dalla modifica del 2006 probabilmente merita un tagliando. Perché abbiamo portato e perché abbiamo insistito e perché insistiamo affinché questa legge venga approvata? Perché la criminalità del 2006, la criminalità di allora è probabilmente mutata rispetto alla criminalità di oggi. Oggi noi abbiamo una recrudescenza sul fenomeno della sicurezza grave. Abbiamo in modo particolare alcuni reati e in modo particolare i reati predatori, furti all'interno delle abitazioni, scippi, borseggi, rapine che sono in netto aumento. La criminalità di oggi mostra dei caratteri di violenza e di realtà molto più violenti e molto più crudele del passato. Siamo passati dai furti all'interno delle abitazioni vuote, dove l'aggressione era solo esclusivamente al bene, a una criminalità che invece porta a un'aggressione continua e sistematica non solo sui beni ma anche in modo particolare sulle persone. Spesso e volentieri chi entra per commettere un reato di furto che poi diventa rapina e poi spesso e volentieri sfocia nell'omicidio, lo fa in presenza di individui all'interno dell'abitazione, non solo per rubare o per sottrarre un bene, ma spesso e volentieri anche apportando fatti di violenza e di criminalità esattamente sulle persone. E allora noi riteniamo opportuno che nel momento in cui la responsabilità grave da parte dello Stato, la responsabilità grave da parte di un Governo che rispetto a tre fattori, il fattore dell'immigrazione, completamente fuori controllo, il fattore dell'investimento sulla sicurezza, si è disinvestito su un tema fondamentale come il tema della sicurezza, tant'è che oggi abbiamo le forze dell'ordine che protestano, c'è oggi un rappresentante sindacale delle forze dell'ordine, Tonnelli, che è stato addirittura ricoverato dopo 45 giorni di sciopero della fame per denunciare le mancanze e l'assenza di questo Governo nell'investimento sul tema della sicurezza, per denunciare che in questi quattro anni in questo Parlamento si è discusso solo ed esclusivamente di carceri, di sovraffollamento delle carceri e di tutela dei diritti dei detenuti, cito in modo particolare i quattro svuotacarceri, i cinque svuotacarceri che sono stati approvati e mi faccio mia le lamentelle di alcuni sostituti procuratori che dicono che non possiamo più mettere in carcere i criminali per la norma approvata da questo Governo sulla carcerazione preventiva, tale per cui il criminale viene fermato alla sera e rimesso a libertà al mattino con pregio sia del cittadino che subisce il reato e il furto, sia nei confronti delle forze dell'ordine che tentano di poter garantire sicurezza rischiando la propria vita, noi oggi vediamo che l'allarme sicurezza, l'emergenza sicurezza rappresenta sicuramente una priorità fondamentale per i nostri cittadini, i nostri cittadini vogliono e pretendono giustamente maggiore sicurezza da parte dello Stato. In questo contesto e in questi fattori, Presidente, ovviamente il dibattito meriterebbe molto di più che dieci minuti di tempo, in questo contesto di grave allarme e sicurezza da parte dei cittadini, in questo contesto in cui noi riteniamo assolutamente ingiusto il fatto che un cittadino nel momento in cui si difende da un reato debba essere messo sotto processo rispetto al fatto che noi ci chiediamo con quale diritto lo Stato italiano metta sotto processo un cittadino semplicemente per essersi difeso da un reato, reato che lo Stato avrebbe dovuto prevenire e che non ha prevenuto, noi riteniamo opportuno riscrivere in modo chiaro, non togliendo all'interpretazione soggettiva e alla discrezionalità di valutazione da parte del magistrato, il tipo di comportamento che un cittadino può e deve tenere all'interno della sua abitazione per difendere che cosa? Per difendere il bene primario, il bene per eccellenza, quel bene che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 2 definisce un bene assoluto che è il bene della vita, la difesa dell'incolumità, la difesa del domicilio sacro inviolabile come la Corte Costituzionale, l'articolo 14 ci ricorda, per noi sono beni che vanno tutelati ed è per questo, ed è questo l'indirizzo, lo scopo e la finalità verso cui tende la nostra proposta di legge, ancorandola dei principi oggettivi, mutuando un sistema che è quello del codice penale francese, rispetto al quale il domicilio è sacro, il domicilio è inviolabile e bisogna dettare norme chiare, non lasciate alla valutazione l'arbitro soggettivo di valutazione in modo particolare su quello che è il nodo principale. Io vorrei che si capisse che oggi il nodo principale, Presidente, e chiudo sull'articolo 52 è la proporzionalità, il giudizio di valutazione sulla proporzionalità tra difesa e offesa. Noi vogliamo superare, e lo facciamo con la nostra proposta di legge attraverso una presunzione legale assoluta, questo aspetto che è stato dimostrato essere un aspetto estremamente problematico. Io credo che il discrimine su questo tema sia chi sta dalla parte dei cittadini onesti, che hanno il sacrosanto diritto di potersi difendere all'interno della propria abitazione e di poter difendere la propria attività commerciale da chi entra abusivamente e legalmente all'interno del proprio domicilio e chi ha un atteggiamento di complicità, volontaria o involontaria, rispetto a chi fa della criminalità, a chi fa della delinquenza la propria attività principale. Noi, Presidente, è chiuso, staremo tutta la vita dalla parte dei cittadini onesti e per bene, che pretendono il sacrosanto diritto di difendere il proprio domicilio e l'incolumità al bene della vita proprio e dei propri cari.